Era presente anche una piccola delegazione della diocesi di Macerata lo scorso 16 dicembre a Roma all'evento che ha visto la partecipazione di oltre 1500 figuranti dei presepi viventi provenienti da tutta Italia. Il comitato organizzatore del presepe vivente di Villa Ficana della parrocchia di Santa Croce a Macerata ha avuto infatti l'occasione di incontrare Papa Francesco nell'aula Paolo VI, una buona occasione per rigenerarsi durante i preparativi della decima edizione della rappresentazione tra le case di terra che avrà luogo il prossimo 26 dicembre. È stata un'occasione non dico unica ma sicuramente molto significativa perché il Vescovo Marconi è riuscito tramite il Vescovo Organizzatore Italentino, il Vescovo Titolare Magricas, a darci l'opportunità di partecipare anche noi del comitato del presepio vivente di Ficana e quindi siamo potuti andare a quest'udienza speciale dal Papa che ha rimesso al centro l'inizio 800 anni fa del primo presepio vivente col San Francesco a Greccio e poi mi permetto di aggiungerlo, lui ha detto come secondo punto di pregare per la Terra Santa e per i cristiani a Gaza e cristiani in Palestina e quindi lo ridico a tutti perché è un impegno per ognuno di noi. Il momento poi significativo è stato con lui ma nel pomeriggio c'è stata anche una sfilata di tutti i presepisti che erano venuti a Roma, quindi all'incirca 1.500 persone che intorno alla Basilica di Santa Maria Maggiore hanno di nuovo in qualche modo rimesso in scena il presepio vivente, abbiamo sfilato, c'erano tanti mestieri e quindi abbiamo visto con i nostri occhi la bellezza di anticipare questa immersione nel presepio vivente. Dico anticipare perché a Macerata di nuovo anche quest'anno, dopo dieci anni per la decima volta, si svolgerà il presepio vivente a Borgoficana di Macerata. Quindi il 26 dicembre siete tutti invitati a venire dalle ore 16 alle ore 19 e 30 per entrare nel mistero dell'incarnazione. Non è uno spettacolo, è la possibilità di guardare, di vedere, di incontrare la Sacra Famiglia e per arrivare alla Sacra Famiglia tutto il percorso attraverso i mestieri, i personaggi di quel tempo, ce ne sono di nuovi quest'anno, quindi di vedere la carnalità dell'incarnazione proprio, perché Gesù Bambino è un bambino vero, tutti i figuranti sono volontari che collaborano, ci saranno anche gli animali veri che piacciono molto ai bambini e quindi è l'occasione per scoprire ancora una volta che il Natale è il mistero di Gesù che viene qui e ora.